Ciao a tutti, sono Marco Calzaducca e sono un chitarreste classico. Nel 2018 ho partecipato a un'audizione alla Scuola di Musica Vallotti di Vercelli, grazie alla quale ho vinto la borsa di studio Ducale Lab. Ho frequentato il triennio di primo livello al Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandre e adesso sto per terminare i miei studi al Conservatorio Guido Cantelli di Novara con il maestro Luigi Biscaldi. Il baranno che andrò ad eseguire è lo studio numero 49 dei 60 studi di virtuosità e trascendenza scritti dal compositore vercellese Angelo Gilardino. Questo studio si intitola Paesaggio Ligure ed è un amaggio al pittore italiano Erobaldo Marello, vissuto nel periodo tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900. Concludo con un saluto al pubblico della Ducale Lab e agli amici della Camerata Ducale e vi auguro un buon ascolto. Amici della Camerata Ducale e vi auguro un buon ascolto. Amici della Camerata Ducale e vi auguro un buon ascolto. Amici della Camerata Ducale e vi auguro un buon ascolto. Amici della Camerata Ducale e vi auguro un buon ascolto. Amici della Camerata Ducale e vi auguro un buon ascolto. Amici della Camerata Ducale e vi auguro un buon ascolto. Amici della Camerata Ducale e vi auguro un buon ascolto. Amici della Camerata Ducale e vi auguro un buon ascolto. Amici della Camerata Ducale e vi auguro un buon ascolto. Amici della Camerata Ducale e vi auguro un buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.